Ma che cosa state dicendo? C'è, 1-2? Ma sul serio? Dopo che venivamo da delle prove libere vergognose? No, cioè, è successo qualcosa? Non me lo spiego, è impossibile, spiegatemelo voi, cioè la Red Bull... Vabbè, Verstappen aveva forse danneggiato il fondo, forse quello... siamo stati forse anche fortunati, perché se non si danneggiava il fondo forse ci passava... E' assurdo! E' assurdo, non possiamo aver fatto doppia c'è il possibile! Vabbè, tanto domani non vinciamo, però cazzo partire 1-2, ma che bello, da quanto non capitava! Oddio! Che figo! Madonna, adesso sono contento... Vabbè, comunque Perez è un po' una merda, per esserci che rompiamo di casa... Verstappen terzo... Mercedes, comunque, cioè, ci siamo messi dietro, ci siamo messi dietro ovviamente le McLaren e le Mercedes, e quello è l'importante anche... E Norris, vabbè, ha fatto un errore, perciò è finito il diciannovesimo... E le Williams, invece, hanno fatto tipo il contrario della Ferrari, che prova libera è andata bene, invece... Quale si chiama? Un po' meno, decisamente! Sto Martin, no, sempre sempre sto calo che mo' che c'hanno... Nel inizio di stagione ancora non me lo spiego perché se era andata così bene... E mo' non più... Cioè, l'altra l'avranno spiegato, ma io ovviamente sono rincitrollito, me l'avranno detto 827 volte... Vabbè... Scusate... E oh, porco 2... Domani, vabbè, cioè, si vede la gara palese, dai, cazzo... Meno male, pensavo fosse in contemporanea Quinta e Roma, invece, no... E... Vabbè, dai... Vediamo un po'... Vai, ragazzi, ci vediamo domani...